Entravo nelle librerie. Tanti anni fa rimasi folgorato innamorato dall'insegnamento del cerchio a Firenze 77. Entravo nelle librerie e pensavo tra me e me, ma guarda quanti libri inutili, partoriti dalla mente, sono pronti per essere comprati da tanta gente e non spiegano nulla, proprio nulla, del perché viviamo. E così? Commento. No, perché non sapevi che per la legge niente è inutile, altrimenti non esisterebbe. Quei libri erano non solo utili ma necessari a chi credeva solo nella mente.